Ti dice tutto di tutti. Ti dice tutto di tutto. 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 Valeria riesce a coinvolgere tante persone, tanti amici e tanti media. Sì, riesce a coinvolgere tanti amici perché comunque la sua, tra virgolette, leggerezza, il suo stile è coinvolgente. Insomma la collezione di Valeria immagina una donna dinamica forte. Molte cose a coinvolgere tanti amici. Grazie a tutti.